Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico, io sono Issam e oggi vediamo un elicottero molto interessante della Yushan che è l'F280, non è un elicottero per principianti, non è assolutamente un elicottero da prendere come primo elicottero perché come vedremo adesso sarà molto nervoso, nonostante che comunque il suo flight controller permette un volo stabilizzato da accelerometro, non ha il gps quindi non ha il ritorno a casa automatico ed è fatto per 3d anche spinto quindi lo consiglio eventualmente come terzo o quarto elicottero quando hai imparato bene. All'interno arriva con i due manuali di istruzioni, il manuale di istruzioni dell'elicottero in lingua inglese dove c'è anche l'applicazione da scaricare eventualmente per cambiare le impostazioni del flight controller, abbiamo anche il manuale di istruzione della radio jumper t20 che abbiamo visto in una recensione precedente che è inclusa nel pacco se prendi la versione rtf perché è possibile anche prenderla in versione bind and fly ovvero con la ricevente dentro e la bindi con la tua radio express lrs. È possibile prendere questo elicottero con una o due o tre batterie che consiglio sempre prendere sempre il più batterie possibili con il tuo veicolo o velivolo perché costa sempre di meno prendere le batterie direttamente nel pacco invece che singolarmente. Le batterie sono da 1300 mAh e sono da 6 celle quindi da qui anche capisci che questo elicottero non è per principianti. Abbiamo la coda ad aggancio e sgancio rapido ed è in lega di alluminio. Il motore del rotore di coda è un motore brushless. Lo stesso vale anche per il motore del rotore principale che è un bestione che come vedi qua è protetto da questo pezzo in alluminio messo sul telaio in arbonio 3k. Il motore è un 4314 da 250kv e ovviamente avrai capito che è un direct drive ovvero il motore è collegato direttamente all'albero principale e non abbiamo nessun rapporto quindi sarà molto più silenzioso di un elicottero tradizionale con tutti gli ingranaggi d'altra parte non sarà molto silenziosa la coda come al solito di questi elicotteri che dovranno variare la velocità del rotore di coda e non hanno il passo. Per bilanciare la controcoppia del rotore principale la coda si aggancia semplicemente spingendola all'interno quindi collegandola al connettore dopodiché si può assicurare con questa vite da stringere. I servo sono sempre della Yushank sono servo digitali con ingranaggi metallici da 9 grammi ed è ovviamente un fly barless come puoi notare qua i vari tiranti sono in plastica non regolabili non allungabili che da una parte aiutano moltissimo perché non devi regolare niente la lunghezza è fissa non ci si può sbagliare d'altra parte eventualmente in un crash se dovessi piegare qualcosa dovrai cambiare tutto il pezzo che comunque è una cosa che io farei lo stesso anche se fossero regolabili. Le pale fornite con l'elicottero sono da 280 mm l'una il rotore principale invece con le pinze misura un diametro di 646 mm la lunghezza totale dell'elicottero invece è di 646 mm e pesa per l'esattezza 905 grammi senza batteria la batteria invece pesa 202 grammi come vedi le pale arrivano già bilanciate dalla fabbrica ed è una cosa molto positiva le pale hanno una forma un po' particolare della prima volta che vedo delle pale del genere sono simmetriche ma hanno un rigonfiamento qui in fondo non so se si vede alla telecamera ovviamente è una cosa fatta apposta non conosco il motivo ma la prima volta che vedo una cosa del genere e se qualcuno di voi è esperto di aerodinamica delle pale delle eliche ecco potrebbe commentare e illuminarci sul perché c'è questo rigonfiamento in fondo alla pala essendo simmetriche si possono montare o così su o così in giù non importa l'importante che la direzione sia corretta nella scatola ti danno anche la vite e l'apposita rondella e il dado autobloccante per fissare la pala nella scatola arriva un'elica di scorta del rotore di coda un piccolo cacciavite a croce e una chiavetta a brugola purtroppo però la brugola in dotazione non è adatta a questa vite le impostazioni delle curve del gas e del passo sono descritte nel manuale di istruzioni e come puoi notare sono molto semplici perché la curva del gas per esempio il normale parte da zero e poi rimane fissa a 65 per cento mentre idle 1 in 3d 75 per cento idle 2 per 3d molto spinto consigliano 80 per cento per quanto riguarda la curva del passo loro non ti danno una curva vera propria ma ti consigliano di impostare il passo minimo a meno 13 il passo massimo a più 13 gradi dopodiché potresti anche utilizzare una curva lineare questo ovviamente se prendi la versione bind and fly e quindi dovrai programmare la tua radio mentre la versione ready to fly che vedi qua sul tavolo arriva già con la radio programmata non devi far altro che procurarti due batterie perché se hai visto su questo canale la recensione della jumper t20 saprai che prende due batterie da 21.700 che non sono inclusi nella scatola sono difficili da procurare questo è il supporto che ti danno per le batterie d'altra parte comunque potrai utilizzare un altro supporto che potresti acquistare che ti lascio nella descrizione del video eventualmente se ti serve o anche delle batterie come questa che ho fatto da due celle a lioni di litio 18.650 o anche queste che si possono acquistare direttamente nel mercato anche una lipo da due celle una qualsiasi potrebbe andare benissimo come puoi notare la radio già programmata con tutto diamo un'occhiata anche alla programmazione eventualmente se volessi programmare la tua radio nella stessa maniera quindi entro nel menu modello qui ci interessa poco c'è il nome del modello come vedi il swashplate non è programmato perché abbiamo un flight controller che gestisce lui il swashplate anche qua i flight mode i trim sono tutti uguali non sono stati programmati per quanto riguarda gli input abbiamo tre curve del gas una curva che si attiva con lo switch c in su quindi così è attiva ed è la prima curva la seconda curva che dovrebbe essere idle up 1 quindi al 75 per cento mentre idle up 2 sempre lo stesso switch si attiva all'80 per cento di velocità del rotore bene vediamo queste tre curve se l'hanno impostate veramente come da manuale di istruzione hanno cambiato quindi andiamo nelle curve qua e vediamo la curva numero uno che è la curva del gas quindi la curva del gas andiamo a vedere qua il punto numero uno come vedi è meno 100 per cento quindi quando lo stick del gas al minimo il rotore è spento quando passiamo invece alla curva al punto numero due come vedi inizia ad aumentare arriverà al 40 per cento e la velocità del rotore arriva al 40 per cento e non al 65 per cento come da manuale di istruzioni dopodiché continua sempre al 40 per cento quindi diversamente da quello che consigliano nel manuale di istruzioni che è un po' strano ok torniamo indietro e andiamo a vedere la curva numero due del gas come puoi notare siamo passati dal 40 per cento al 50 per cento ed è un idle up quindi non parte da zero è sempre alla stessa velocità rimane sempre il 50 per cento durante tutto il movimento dello stick del gas sempre diversamente da quello che raccomando nel manuale di istruzioni come idle 1 75 per cento passiamo alla curva numero tre come puoi notare e siamo al 70 per cento e non all'ottanta per cento ed è sempre lungo tutta la curva quindi presumo che queste curve consigliate siano il massimo che dovresti utilizzare con questo motore e con questo è da 60 ampere costanti e 70 ampere di picco con un back da 5 volt che arriva a 10 ampere di picco e 8 costanti per alimentare tutti i servo che ovviamente dovranno sostenere tutto il peso dell'elicottero vediamo invece adesso sul canale 6 la curva del passo dell'elica sempre lo stesso switch abbiamo la curva standard normale la curva idle up 1 e idle up 2 con 3d da pazzi andiamo a vedere le curve così eventualmente se volessi fare le stesse impostazioni con la tua radio se vuoi prendere la versione bnf quindi andiamo sulla curva numero 4 come puoi notare abbiamo il punto numero 1 a meno 32 il punto numero 2 a meno 24 0 quindi quando siamo con lo stick al 50 per cento abbiamo il passo ovvero l'angolazione della pala allo 0 per cento dopodiché per decollare ecco la curva andrà al 40 per cento massimo al 75 per cento per la curva normale passiamo alla curva idle up 1 come vedi è abbastanza lineare anzi direi che lineare parte dall 80 per cento dal meno 80 per cento al meno 40 per cento allo 0 più 40 e più 80 mentre l'ultima curva quella da 3d da pazzi abbiamo sempre un meno 80 meno 40 0 più 40 e più 80 quindi come avrai visto cambia solamente la velocità del rotore ma il passo non cambia per quanto riguarda la configurazione dei mix qua non hanno cambiato niente praticamente ci sono i quattro canali hanno aggiunto solamente questa curva che viene attivata con lo switch b che sarebbe per armare i motori quindi così si attiva la curva a meno 100 costante che massima e disattiva il rotore quindi questo modo abbiamo motori disarmati così si armano i motori al contrario di quello che utilizziamo di solito per i droni da qui quindi questo se vuoi poi cambiare lo switch infatti io lo farò perché io utilizzo questo switch per armare di solito e disarmare il canale 5 è impostato sullo switch a a due posizioni ed è quello che attiva la modalità 6g o la modalità 3d quindi 6g siamo stabilizzati da accelerometro mentre 3d siamo stabilizzati da giroscopio e siamo in acro mentre il canale 6 viene gestito dall'input numero 6 che abbiamo visto prima ovvero con le tre curve a seconda della posizione dello switch c per quanto riguarda la schermata output qui potrebbe variare nel tuo modello perché con questa funzione si centrano i vari servo e si limita la loro corsa totale per livellare correttamente lo swash plate swash plate completamente in cnc in lega di alluminio come puoi notare con tutti i bracci che si collegano ai servo che sono in plastica quindi eventualmente in caso di crash romperai solamente questo e conserverai tutto il resto molto probabilmente in caso di crash dovrai cambiare anzi la maggior parte al 90 per cento delle volte in un crash dovrai cambiare l'albero del rotore principale ma per tutto il resto come vedi è protetto molto bene attenzione a una cosa molto importante se prendi questo elicottero infatti loro lo pubblicizzano come distanza massima di 300 metri in realtà come ben sai se segui il canale express lrs ti permette chilometri a chilometri con pochissima potenza ma tieni conto che qui se schiacci il bottone e vai sulla configurazione di express lrs vedrai che la trasmittente radio trasmette al massimo a 25 millivatt e io consiglio assolutamente di aumentarlo per sicurezza a 500 millivatt e metterlo su dinamico quindi quando non c'è bisogno la trasmittente trasmetterà probabilmente anche a 10 millivatt quando invece c'è bisogno la trasmittente potrà salire a 500 millivatt e eventualmente in caso di interferenza salvarti l'elicottero per quanto riguarda gli accessori della radio arriva tutto quello che arriva nella scatola originale della jumper quindi il manuale di istruzioni tutti gli adesivi eventualmente se vuoi metterli qua su questi bottoni il laccio e tre mollette degli stick di scorta nella scatola abbiamo anche il manuale di istruzioni della ricevente dalla jumper ion rx mini se che viene montata qui dietro dove ha un'antenna che è messa così in verticale quindi mi raccomando quando usi questa radio con questo elicottero dovrai mettere l'antenna parallela all'antenna della dell'elicottero quindi la metti verticale in questo modo ovviamente la jumper t20 è capace di ricaricare direttamente la batteria interna tramite usb c e ti danno anche il suo cavo usb usb c con l'elicottero arriva questo piccolo modulo bluetooth che eventualmente potresti installare sul flight controller per cambiare la configurazione per farlo dovrai smontare la parte superiore della canopy ci sono quattro viti solamente da togliere e potrai rimuoverla certamente come puoi notare l'esca è protetta solamente da questa canopy però tieni conto che è tutto in lega di alluminio anche perché dovrà dissipare il calore quindi è molto robusto se volessi installare tenere installato il modulo bluetooth basta prendere un pezzettino di biadesivo attaccarlo da questa parte collegare il suo connettore dove c'è scritto bluetooth e lo attacco qui dietro che ci sta benissimo una volta fatto alimentando l'elicottero che si avvia e si avvia anche il flight controller come puoi notare qui sta lampeggiando in blu quindi adesso è attivo il bluetooth entro nell'applicazione vado a cercare il mio apparecchio yushan e come puoi notare adesso posso gestire i parametri e ti faccio vedere i parametri di default che arrivano dalla fabbrica sia quelli meccanici che quelli di configurazione come puoi notare qui dall'applicazione il flight controller rileva proprio il voltaggio della batteria totale però purtroppo non viene trasmesso tramite la telemetria sulla radio infatti come vedi qua sulla radio non c'è nessun sensore che dà questo voltaggio perciò purtroppo non è possibile sapere quando la batteria è scarica tramite la radio infatti questo flight controller è collegato tramite s bus alla ricevente express lrs quindi non sta sfruttando tutto il potenziale della ricevente perché ls bus riceve solamente ordini dalla ricevente e non trasmette nulla alla ricevente della telemetria che ha per esempio il voltaggio che abbiamo visto nell'applicazione non viene trasmesso indietro stessa cosa se hai una ricevente ppm che ormai nessuno ha non potrai avere la telemetria e neanche gli avvisi sulla radio per la batteria scarica mentre come puoi notare qui questo flight controller si può utilizzare anche una ricevente dsm2 o dsmx se utilizzi una ricevente dsmx con protocollo sr xl2 con molto probabilmente avrai la possibilità di avere la telemetria quindi il voltaggio della batteria direttamente sulla tua radio con gli avvisi bene a questo punto spero di non aver tralasciato nulla dall'aspetto tecnico che potrebbe esserti utile se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti e ci vediamo nel prossimo video del volo dove vedremo la performance dello yushang f280 80